Arrestato dai carabinieri a San Pietro Vernoti con 39enne, titolare di un maneggio per sfruttamento del lavoro nelle ipotesi aggravate. Anche l'assessore regionale ai trasporti Giannini e il presidente di aeroporti di Puglia Onesti hanno partecipato alla presentazione del raccordo ferroviario RFI che si è tenuta ieri a Brindisi, le loro dichiarazioni. Contrasto dei fenomeni di economia illegale nel comparto agricolo, ieri incontro in prefettura la presenza dei componenti della rete per il lavoro di qualità. Visita del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle all'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, Gli elementi di criticità saranno motivo di interrogazione, ma intanto ci auguriamo che Emiliano si assuma la responsabilità di aver distrutto il sistema sanitario regionale. Emozioni, il tour dedicato a Battisti e Mogol a Brindisi nell'ambito dell'Adriatic Cup, unica tappa in Puglia il 24 agosto. Appuntamento sul lungomare, Regina Margherita. Un cordiale salute ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione della telegiornale che apriamo. Come avete sentito dai titoli, parlando di cronaca dell'arresto da parte dei carabinieri a San Pietro Vernotico, di un 39enne, il titolare di un maneggio per sfruttamento del lavoro nelle ipotesi aggravate. Sentiamo. A San Pietro Vernotico i carabinieri hanno arrestato Nunzio Auricchio, 39enne nato a Napoli, residente a San Pietro e titolare di un maneggio in contrada a fondo. Il reato contestato è sfruttamento del lavoro nelle ipotesi aggravate, oltre a violazioni del testo unico ambientale e su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso del controllo, finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato in provincia, in un contrada a fondo, in un ampio appezzamento di terreno adibito appunto a maneggio, è stata notata la presenza di un bracciante di etnia africana di 23 anni, intento ad effettuare la pulizia delle stalle e l'accudimento dei cavalli. L'uomo non era provvisto di calzature e indumenti previsti per la prevenzione degli infortuni. Pertanto i militari hanno deciso di intervenire. Nel corso del controllo, nel maneggio, nel quale erano presenti otto cavalli, i carabinieri hanno accertato altre violazioni. In particolare, il lecito smaltimento con sversamento nel terreno e mediante incendio di materiale plastico, biologico e scarti provenienti dalle stalle. Cavalli detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura. Le condizioni di lavoro, particolarmente onerose del 23enne africano, dal suo racconto con regolare permesso di soggiorno emerso, che era stato occupato in nero e che aveva percepito solamente 25 euro per 9 giorni di lavoro. Il maneggio e i terreni sono stati sequestrati, a seguito di ispezione sanitaria eseguite dal personale dell'Asla di Brindisi. I cavalli presenti sono stati affidati in custodia giudiziale ad una donna, 43enne del posto, compagna dell'arrestato. All'imprenditore sono state contestate sanzioni amministrative per 20.000 euro e combinate ammende per 32.000 euro, con immediata sospensione dell'attività imprenditoriale. L'uomo è stato tradotto nella casa circondariale di Brindisi. Impiego di acque meteoriche per la subirrigazione, ma senza autorizzazione, il Noe di Lecce ha sequestrato il Centro Comunale di Raccolta di Rifiuti Urbani. A Brindisi, sentiamo. Centro Comunale di Raccolta di Rifiuti Urbani privo di autorizzazione scatta il sequestro da parte del Noe di Lecce. I carabinieri, a seguito di un controllo effettuato nell'ambito della Direttiva Operativa 2019 del Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale di Roma, iniziata il 22 maggio scorso, hanno dato esecuzione ad un decreto emesso dal GIP presso il Tribunale di Brindisi, procedendo così al sequestro preventivo del Centro Comunale di Raccolta, RSU, dell'estensione di circa 5.500 metri quadrati che si trova nella zona industriale di Brindisi, gestito dalla società ecotecnica SRL, appaltatrice del servizio per il Comune di Brindisi. L'attività dei militari specializzati nei reati ambientali ha permesso di accertare che le acque meteoriche di dilavamento del piazzale del centro di raccolta venivano utilizzate per la subirrigazione senza l'autorizzazione prescritta. La misura cautelare è riferita alla sola azienda e non anche ai mezzi utilizzati per l'effettuazione del servizio che pertanto potranno continuare ad operare con diverse modalità gestionali, recapitando per esempio i rifiuti raccolti o verso altri centri intermedi o direttamente verso le altre filiere di recupero e smaltimento. In merito al sequestro effettuato ieri dalla squadra mobile di Brindisi relativo ai locali dell'ex ufficio anagrafe del quartiere Paradiso di proprietà del Comune di Brindisi, ci sono delle puntualizzazioni da parte della civica amministrazione che scrive, utile precisare che questi spazi erano stati concessi in uso nel 2015 attraverso un bando pubblico per start-up di imprese giovanili della durata di sei anni, i primi tre anni a titolo gratuito, mentre i successivi prevedevano il pagamento di un canone. L'assegnataria dell'immobile ha utilizzato i locali a partire dal novembre 2015 al termine dei primi tre anni gratuiti e non ha pagato alcun canone. Il Comune ha quindi risolto il contratto ed è emesso un'ordinanza di sgombero datata 21 giugno 2019 ed aveva già escusso la polizza fisica e usoria a febbraio 2019. Quindi, in qualche maniera, il Comune di Brindisi prende le distanze dal fatto di cronaca che si è verificato ieri e che è visto coinvolta la polizia di Brindisi che ha effettuato un'operazione. Torniamo a parlare invece del raccordo ferroviario e la presentazione del progetto ieri a Palazzo Granafei in Erbegna. Non sono mancate le polemiche, un botta e risposta fra Fitto e Bozzetti. Ma intanto, a proposito di ieri, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti e cioè l'assessore regionale ai trasporti Giannini e il presidente di aeroporti di Puglia Tiziano Onesti. Il presidente di aeroporti di Puglia Tiziano Onesti e l'assessore regionale ai trasporti Giovanni Giannini fra i partecipanti alla presentazione del progetto del raccordo ferroviario RFI che si è tenuta venerdì a Brindisi alla quale hanno partecipato anche il ministro per il Sud Barbara Lezzi e i rappresentanti di Enac. Collegare un aeroporto alla rete ferroviaria in generale è una cosa fondamentale. Tutti i moderni aeroporti nel mondo sono collegati con la rete ferroviaria e quindi la facilità di accessibilità all'aeroporto diventa un elemento proprio trainante. Anche perché il cittadino, la persona, avrà più opzioni, più chance per andare come vuole in aeroporto, può andare anche col mezzo privato, ma noi cerchiamo sempre di sconsigliare di andare invece su un mezzo condiviso come può essere un treno o un trasporto collettivo in sharing. Questo si innesta in una filosofia, proprio in una politica, più che filosofia gestionale e fattiva, che gli aeroporti stanno perseguendo anche perché ci ispiriamo ai principi della sostenibilità, per cui meno congestione, più facilità di accesso, più familiarità di accesso, più esperienza di viaggio che permette di collegare l'aeroporto di Blindi sia una delle terre più interessanti sotto ogni sviluppo, sia turistico ma anche economico. Insomma, la nostra regione e anche la nostra provincia, se me lo consente, vola in alto? Beh, per forza. Noi vediamo i numeri di questi primi sei mesi, sono numeri importanti. Le rotte internazionali si stanno sviluppando a un passo del 20-25% e sono numeri veramente importanti e significativi, per cui il nostro piano strategico ci impone proprio di andare verso mete, rotte e tracce internazionali, perché quello è il vero sviluppo, è quello. Gli enti debbono operare in sinergia per il potenziamento infrastrutturale del territorio e per creare le condizioni di sviluppo e crescita del territorio stesso. Questa operazione che collega la stazione di Brindisi all'aeroporto e quindi mette in relazione con l'aeroporto di Brindisi le città di Lecce e di Taranto è il secondo esempio di intermodalità dopo Bari che in Puglia realizziamo e credo che la Puglia sia l'unica regione in Italia ad avere il collegamento diretto stazione, aeroporto il che la pone all'avanguardia nel sistema del trasporto locale. Doterà la Puglia di una rete di trasporto che consentirà ai flussi turistici di muoversi a loro piacimento senza intoppi e senza difficoltà. E su questa questione ci sono le dichiarazioni del presidente del gruppo europeo ICR Fratelli d'Italia Raffaele Fitto che scrive leggo dichiarazioni con toni trionfalistici utilizzati dal ministro del Sud Lezzi e dal presidente della Puglia Emiliano per presentare un progetto relativo al collegamento dell'aeroporto di Brindisi con le città di Brindisi Lecce e Taranto e mi permetto di fare due considerazioni. La prima nel 2019 ci saremmo aspettati eventualmente l'inaugurazione dell'opera lo shuttle visto che era finanziata con delibera Cipe numero 62 del 2011 e integrata con ulteriori finanziamenti sempre del Cipe. quindi questo governo non ha finanziato un solo euro in più per questo la conseguente domanda è cosa ha fatto o meglio non ha fatto la regione in questi anni perché pur disponendo delle risorse non si è attivata la seconda non può che farmi piacere che da qualche mese non si fa altro che parlare del contratto istituzionale di sviluppo come se fosse un nuovo strumento inventato da questo governo vorrei solo ricordare conclude Fitto che è stato ideato e approvato nel 2011 otto anni fa il Movimento 5 Stelle risponde con il consigliere regionale Gianluca Pozzetti che scrive grazie al ministro Lezzi stanziati 20 milioni di euro per realizzare l'opera la vecchia politica purtroppo ancora non ha capito che non basta annunciare gli stanziamenti bisogna rimuovere gli ostacoli e procedere per questo non possiamo che ringraziare il ministro del Sud Barbara Lezzi per quanto sta facendo per il territorio di Brindisi per anni dimenticato e impoverito da destra e sinistra così appunto il consigliere 5 Stelle Gianluca Pozzetti che prosegue a chi dice che si tratta di un progetto per cui erano già stati stanziati fondi europei ovviamente rispondendo implicitamente a Fitto rispondiamo con i fatti che dimostrano come grazie al ministro Lezzi siano stati aggiunti altri 20 milioni di euro per la realizzazione del raccordo ferroviario fra l'aeroporto e la stazione atteso da anni nell'ultima delibera Cipe infatti è stato inserito il progetto per l'anello ferroviario di Brindisi un intervento complessivo di 60 milioni di euro di cui 20 finanziati dal ministro Lezzi attraverso il fondo di sviluppo e cosione di cui presiede la cabina di regia dopo l'estate sarà convocata la prossima cabina di regia e sarà approvata la delibera con cui verranno stanziati 20 milioni di euro che poi sarà portata alla prima riunione del Cipe per avere il via libera al finanziamento abbiamo una scadenza da rispettare che la prima metà del 2024 finalmente conclude Bozzetti si potrà dire basta alle attese decennali che hanno solo il sapore della presa in giro che il sud e in particolare il territorio di Brindisi hanno subito per troppo tempo cambiamo argomento parliamo del contrasto dei fenomeni di economia illegale nel comparto agricolo perché ieri si è tenuto su questo argomento un incontro in prefettura sentiamo il trasporto dei braccianti agricoli al centro di un incontro che si è tenuto in prefettura il secondo sul tema con i componenti della sezione territoriale della rete per il lavoro agricolo di qualità presieduto dalla prefetto Umberto Guidato al quale hanno partecipato oltre al direttore provinciale IMSS il responsabile territoriale INA il dirigente ASL Spesal il responsabile dell'ispettorato territoriale del lavoro le organizzazioni sindacali le associazioni datoriali di categoria il dirigente della sezione trasporti della regione Puglia l'insediamento della sezione avvenuto il 27 giugno scorso ha dato il via ad un percorso condiviso e partecipato di promozione e diffusione della legalità nel campo specifico del lavoro in agricoltura grazie alla partecipazione del responsabile regionale è stato approfondito uno degli aspetti di maggiore criticità e cioè quello del trasporto dei braccianti agricoli cercando di individuare insieme possibili interventi anche attraverso forme collaborative di partenariato pubblico il prefetto ha sottolineato come la prefettura segua con particolare attenzione i fenomeni connessi all'intermediazione illecita di manodopera del settore agricolo ed ha evidenziato la necessità di dare slancio alla rete costituita attraverso forme di collaborazione sinergica obiettivo contrastare i fenomeni di economia illegale nel comparto agricolo la sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità rappresenta per la provincia di Brindisi un punto di riferimento e mira ad attivare un utile confronto valorizzando quelle aziende che rispettano le norme in materia di lavoro legislazione sociale ed imposta a conclusione della riunione il prefetto ha anticipato che la prossima settimana si terrà un nuovo incontro con i sindaci ed il presidente della provincia per illustrare l'attivazione della rete agricola di qualità e i suoi ambiti applicativi agevolare e migliorare il trasporto pubblico dei militari incontro fra il presidente della commissione regionale Mauro Vizzino e i vertici dell'esercito trasporti Vizzino e Morgante incontrano il comandante generale di brigata dell'esercito Giorgio Rainò il presidente della commissione trasporti e il componente della stessa hanno incontrato i vertici dell'esercito in Puglia presso la caserma Domenico Picca di Bari Vizzino e Morgante sono stati ricevuti dal comandante generale di brigata Giorgio Rainò dal capo di stato maggiore colonnello donato Nini Viaggi dal luogotenente Lariccia dal primo luogotenente Fumarola e dal sergente Mazza il comandante Rainò ha inteso ringraziare Vizzino e il consigliere Morgante per l'impegno profuso in favore dei militari dell'esercito nei confronti delle ferrovie sud-est in particolare sono state prese in considerazione le richieste relative all'anticipo dell'orario sulle corse segnalate dall'esercito in maniera tale da rendere più agevole il trasferimento dei militari Ferrovie e sud-est inoltre ha confermato al presidente Vizzino che le criticità relative al malfunzionamento dei mezzi impiegati su alcune tratte sono state risolte con la nuova turnazione di settembre inoltre si procederà alla verifica di ulteriori criticità il presidente Mauro Vizzino e il consigliere Morgante hanno confermato al comandante Rainò il proprio impegno affinché la regione Puglia prende in considerazione l'ipotesi di garantire degli sconti sugli abbonamenti per il trasporto pubblico dei militari la linea va ora alla regia tra poco seconda parte della telegiornale visita del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle all'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana Gianluca Bozzetti che dichiara gli elementi di criticità riscontrati saranno motivo di interrogazione regionale ma intanto ci auguriamo che Michele Emiliano si assuma la responsabilità di aver distrutto il sistema sanitario pugliese visita sorpresa all'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Bozzetti accompagnato dal consigliere comunale Giuseppe Ricchiuti dopo l'ennesima passerella del presidente Emiliano esordito Bozzetti venuto qualche mese fa di inaugurare aree riaperte al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione abbiamo voluto verificare di persona le condizioni dell'ospedale i pentastellati hanno visitato anche la nuova sede del reparto di pediatria dove sarà allestita la sala ricreativa con televisore impianto DVD sedie donate grazie alla restituzione degli stipendi dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle a questo e ad altri ospedali pugliesi abbiamo appreso di Chiara Bozzetti che probabilmente entro settembre dovrebbero giungere gli arredi per completare la nuova ala del reparto dove verrà allestita anche la sala cinema successivamente si procederà alla richiesta di accreditamento con la speranza che entro la fine dell'anno il reparto diventi pienamente operativo abbiamo parlato con gli operatori sanitari continua Bozzetti che ogni giorno lavorano nella struttura e che ci hanno illustrato i problemi a cui devono far fronte parliamo di un osocomio che se funzionasse a pieno regime potrebbe essere il punto di riferimento della zona a cavallo fra i comuni della provincia di Brindisi e di Taranto tra le numerose criticità riscontrate la forte presenza di guano e nidi di rondini quella di insetti e zanzare dovuta alla vicinanza di un depuratore del canale reale occorrono interventi di pulizia immediati continua il pentastellato visti i potenziali problemi igienico-sanitari ma vi è di più come la presenza di un unico ascensore che funziona ad intermittenza allo stesso modo la totale mancanza di coperture per le postazioni delle autoambulanze del 118 parcheggiate a cielo aperto che mette a rischio la salute degli operatori e dei pazienti vi è poi la questione del primo piano al pronto soccorso lasciato letteralmente a metà dei lavori elementi di criticità che saranno motivo di interrogazione regionale ma intanto conclude Bozzetti ci auguriamo che Emiliano oltre alle passerelle e alle foto durante le inaugurazioni si assuma anche la responsabilità di aver distrutto il sistema sanitario regionale emozioni il tour dedicato a Battisti e Mogol sarà a Brindisi nell'ambito dell'Adriatic Cup unica tappa in Puglia il 24 agosto l'appuntamento sarà sul lungomare Regina Margherita Brindisi si prepara ad un altro grande evento dell'estate 2019 il concerto gratuito di Gianmarco Carroccia accompagnato da Mogol che si terrà a fine agosto nell'ambito dell'Adriatic Cup Carroccia giovane artista di fondi uno dei migliori interpreti nazionali del repertorio di Lucio Battisti dal 2007 ad oggi ha fatto tanta strada stando ai pareri della critica e il gradimento del pubblico pare sia destinato al successo l'artista sarà a Brindisi unica tappa in Puglia nell'ambito del tour emozioni che sta facendo il Giro d'Italia un progetto dedicato alla storia di Lucio Battisti e Mogol che lo vede in veste di produttore straordinario interprete delle indimenticabili canzoni di Battisti Carroccia sarà sul palco in compagnia di Mogol sul lungomare Regina Margherita il 24 agosto lo spettacolo offerto alla città dalla famiglia danese ed organizzato in collaborazione con il comune di Brindisi è un evento di punta del cartellone estivo allestito dalla civica amministrazione e rientra fra le iniziative dell'Adriatic Cup campionato mondiale di motonautica organizzato dal circolo nautico Porta d'Oriente in collaborazione con FIM e WIM per quanto riguarda il progetto il 2014 è sicuramente uno degli anni più importanti del percorso dell'artista sancito dall'inizio della sua collaborazione con Mogol nella progetto Emozioni che diventa un vero e proprio concerto racconto grazie ai numerosi aneddoti e sfumature raccontate dal maestro fra una canzone e l'altra come una sorta di vera e propria biografia musicale con l'esecuzione rigorosamente dal vivo di un'orchestra di 16 elementi nel 2019 spettacoli sold out citazioni e servizi in onda nei TG nazionali ospitate in trasmissioni quali Che Tempo che fa in onda su Rayune condotta da Fabio Fazio o Maurizio Costanzo Show su Canale 5 che vede l'artista Fondano insieme al maestro Mogol presentato sul piccolo schermo in veste di autore e interpreta Dopo la bandiera blu il comune di Ostuni ha ottenuto anche la spiga verde riconoscimento per le amministrazioni rurali della penisola italiana Come le località balneari hanno la bandiera blu così i comuni rurali hanno le spighe verdi e Ostuni nel suo vasto territorio recchiude entrambe le caratteristiche La città bianca ha ricevuto infatti la sua quarta spiga verde nel corso di una cerimonia che si è svolta a Roma presso Palazzo della Valle sede di Confagricoltura Per Ostuni c'era l'assessore all'ambiente Paolo Pinna che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra FEE Italia e Confagricoltura con l'obiettivo di adattare i principi e la metodologia della nota certificazione bandiera blu alla realtà dei comuni rurali della nostra penisola Questo ricomoscimento spiegano il sindaco Guglielmo Cavallo dell'assessore all'ambiente Paolo Pinna conferma l'impegno dell'amministrazione comunale per la tutela e la valorizzazione non solo dei territori costieri ma anche delle aree rurali in particolare la conservazione del paesaggio l'uso del suolo la valorizzazione dei centri storici e gli aspetti culturali dei luoghi per finire con lo sviluppo turistico e l'educazione ambientale Lo scopo è quello di definire nei territori rurali un livello di sviluppo ambientale e turistico che risponda a parametri di vera qualità il tutto nella consapevolezza che l'ambiente si difende attraverso una programmazione che attraverso un vero approccio culturale riesce ad esprimere e valorizzare il brand che gli stessi territori sono in grado di esprimere conservare e tutelare attraverso emergenze paesaggistiche culturali produzioni tipiche e di nicchia Il programma Spighe Verdi sviluppato da FEA Italia Foundation for Environmental Education e Confagricoltura ha lo scopo di favorire lo sviluppo sostenibile dell'ambiente nei comuni rurali attraverso un sistema di certificazione volontario collaudato in oltre 30 anni di esperienza internazionale con il programma Bandiera Blu E tutto per quanto riguarda questa edizione della telegiornale la parte tecnica è stata curata da Alessandro Colavito grazie per essere stati con noi arrivederci e buon proseguimento di serata a il a l'esprende l'esprender è la parte l'esprende attraverso